La stilista di celebrità Miranda Holder ha affermato che l'assenza di Meghan Markle dall'incolonazione, rende l'evento un po' meno eccitante in quanto avrebbe potuto essere una mossa di pubbliche relazioni molto intelligente per la duchessa del Sussex. L'assenza di Meghan Markle dall'incolonazione di Re Carlo, è stato un colpo per la moda britannica. Ha affermato un grande esperto di stile. Miranda Holder, stilista di moda che ha lavorato con celebrità come il cantante Boy George, ha recentemente pubblicato un video virale sull'impatto dell'assenza di Meghan Markle dall'incolonazione, dato che la duchessa è nota per portare un po' di glamour in stile hollywoodiano agli eventi reali. Miranda ha dichiarato che tu faccia parte del team Meghan o meno, non puoi negare che la sua assenza o l'incolonazione rende le cose un po' meno eccitanti, in particolare sul fronte della moda. Ha continuato descrivendo lo stile di Meghan, che è più rilassato e naturale rispetto all'eleganza più sofisticata di Kate Middleton. Miranda ha aggiunto che Meghan sembra più felice e radiosa quando è vestita con jeans strappati, e, con una camicia o versizze, poiché l'esperto di moda ha affermato che la duchessa aveva un approccio alla moda della California allo stile. Ma, nonostante la moda rilassata di Meghan, Miranda ha detto che Meghan sapeva vestirsi anche per occasioni più formali. Miranda ha dichiarato. Meghan, porta il suo certo marchio di glamour nelle grandi occasioni, come indossare il supermarchio di Oral Queen's Jubilee, e questo glamour quasi vecchio in stile hollywoodiano, si distingue decisamente dal resto dei reali britannici più conservatori. sembrano adorabili, ma hanno uno stile completamente diverso, e lo hanno reso divertente. Un po' di varietà e qualcosa per tutti noi da guardare e di cui parlare. un po' di varietà e di cui parlare è un po' di varietà, e lo hanno reso divertente.